Ha calcolato male l'altezza del cavalca ferrovia ed è andato a sbattere con il suo auto articolato di 180 quintali. La disavventura è capitata questa mattina, poco dopo le 10, in via 24 Maggio a Pesaro, all'altezza dell'incrocio con via Montegrappa. L'autista, un 26enne residente a Nova Feltra, ne è uscito illeso, ma i danni riportati sono ingenti, anche se ancora da quantificare. Infatti, a causa dell'impatto, si è rovinato lo scatolato posto a protezione dell'intradosso nella parte sottostante al cavalca ferrovia alto 4,20 m. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i pompieri di Pesaro che con l'autoscala hanno messo in sicurezza le parti pericolanti e le lamiere staccate e cadute a terra. I rilievi, invece, sono stati eseguiti dalla polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per permettere le operazioni dei vigili del fuoco.